Buon pomeriggio a tutti. Oggi è mercoledì 16 giugno duemila e ventuno e si celebra la quarta giornata mondiale dell'elettrosensibilità promossa dalla no profit francese Cœur d'Elettrosensibilité nel 2018. L'evento è caratterizzato dall'uso del colore giallo, infatti ci vedrete che indossiamo qualcosa di giallo. Questa giornata ha lo scopo di spronare la politica e le istituzioni proprio nel considerare l'elettrosensibilità come una vera emergenza sanitaria visto anche il crescente numero di nuovi malati di questa patologia. Nasce ovviamente anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tossicità delle onde elettromagnetiche ma anche per sensibilizzare sulla situazione che vivono giornalmente i malati di ipersensibilità elettromagnetica sulla loro proprio situazione sociale e anche sanitaria. Ovviamente nasce anche eh per proporre delle iniziative per il riconoscimento di questa patologia. È proprio per questo che oggi Alleanza Italiana Stop 5G insieme a Isde Italia promuovono questa diretta web proprio per presentare l'iniziativa elettrosensibilità di fida allo Stato. Eh proprio per cercare di eh ottenere il riconoscimento di questa malattia ambientale legata proprio all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'evento è anche patrocinato da associazioni e comitati di malati ambientali che da sempre eh si battono per eh per la difesa della salute pubblica che viene minacciata anche dall'elettrosnog. Ne parliamo oggi con il dottor Maurizio Martucci eh scrittore giornalista e ehm rappresentante e portavoce dell'Alleanza Italiana Stop 5G. Benvenuto dottor Martucci. Grazie. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Grazie Roberta. Poi ne parliamo con il dottore Ferdinando Laghi e presidente di Isde International e vicepresidente Isde Italia. Benvenuto dottor Laghi. Grazie a voi dell'invito. Grazie a tutti. Buona serata. E poi ne parliamo con gli avvocati con la dottoressa Veroni Cadini. Benvenuta dottoressa. Buongiorno buongiorno a tutti. E con l'avvocato dottor Luca Salta la macchia. E gli avvocati ci parleranno proprio dal punto di vista giuridico nazionale e internazionale eh di di questa del sia delle sia della mancata eh del mancato riconoscimento di questa patologia e sia della presentazione di questa eh di fida agli organi sanitari. Ma io inizierei con il dottor Martucci e gli chiederei di fare un pochino il punto della situazione su quanto in questi ultimi anni è stato promosso per il riconoscimento dell'elettrosensibilità ma anche delle altre malattie ambientali da parte dell'alleanza italiana Stop 5G. Dottor Martucci prego. Grazie Roberta e nuovamente un saluto a tutti gli amici in in ascolto. Dunque eh in realtà io personalmente eh per divulgare le problematiche sull'elettrosensibilità me ne occupo da circa da circa un decennio scrivendo sul fatto quotidiano e poi successivamente dal duemiladiciassette eh su Oasisana. Fondamentalmente per quale motivo? per far capire per trasmettere per diffondere quelli che possono essere quelli che purtroppo già sono i pericoli conclamati dell'inquinamento elettromagnetico da un punto di vista sanitario e da un punto di vista ambientale. La domanda eh che mi sono posto circa dieci anni fa e che continuo ancora oggi a pormi è quanti sono in realtà i malati che soffrono di elettroipersensibilità ovvero sia una sensibilità spiccata all'inquinamento elettromagnetico anche ai campi magnetici e ai campi elettrici. L'assenza sicuramente di censimenti, l'assenza di studi epidemiologici eh ci pone una condizione abbastanza farraginosa. Abbiamo fatica e difficoltà a comprendere in maniera quantitativa quanti siano non soltanto in Italia ma anche all'estero i malati di elettrosensibilità. Sappiamo però che è un fenomeno in crescita e rapida crescita proprio oggi ho letto una notizia in Belgio che parla di circa il cinque per cento della popolazione belga malata di elettrosensibilità così come ricordo uno studio svizzero che parlava del dieci per cento. Ebbene per abbattere questo muro di gomma nel duemila e diciotto ho pubblicato il primo libro sull'elettrosensibilità manuale di autodifesa eh per elettrosensibili un testo da cui poi successivamente è nata l'alleanza italiana stop 5G proprio perché comunque l'interesse suscitato da questa pubblicazione ha fatto sì che si cominciasse a capire all'interno dell'opinione pubblica i gravi rischi e ambientali eh a cui purtroppo la popolazione è sottoposta proprio in previsione dell'implementazione del roll out del 5G e quindi nel duemila e diciotto nell'uscita con l'uscita del libro manuale di autodifesa per elettrosensibili e soprattutto con il eh l'asta governativa che ha che ha messo praticamente in vendita le le nuove frequenze eh del wireless di quinta generazione è nata l'alleanza italiana stop 5G che ha coagulato sin dal principio assorazioni di malati in primis malati ambientali quindi di elettrosensibilità sensibilità chimica multipla ma anche eh pezzi della medicina e della scienza libera indipendente che hanno voluto sposare eh quello che noi riteniamo una sacrosanta battaglia ispirata al principio di precauzione e prevenzione del danno dal duemila e diciotto in poi l'elettrosensibilità è stato il vero e proprio ed è tuttora il vero e proprio cavallo di battaglia dell'alleanza italiana stop 5G voglio ricordare le lettere che sono state mandate ai sindaci eh dove appunto si faceva richiesta di esprimersi in maniera eh democratica e partecipativa con un atto amministrativo di diniego nei confronti dell'implementazione del 5G e proprio il richiamo dell'elettrosensibilità è stato ripetuto in oltre 600 atti amministrativi che i vari comuni d'Italia dalla Valle d'Aosta alla Sicilia vuoi ordinanze dei sindaci piuttosto che delibere eh di giunta o atti di consiglio comunale ebbene l'elettrosensibilità è stata sempre puntualmente richiamata così come è stata richiamata anche nelle diffide legali che i singoli malati sotto input dell'alleanza italiana stop 5G dal duemila e diciotto hanno cominciato a mandare ai vari enti sanitari pubblici proprio per far capire che il pericolo incombente è già purtroppo una spada di tamocle per molti per molti di noi e voglio ricordare anche le attività in sede istituzionale che sono state fatte dall'alleanza italiana stop 5G in primis le conferenze a stampa alla Camera dei Deputati al Senato della Repubblica dove insieme ai medici e malati di elettrosensibilità sono state eh espressi dei veri e propri appelli in primis eh ai parlamentari al governo ma voglio ricordare anche all'appello eh inoltrato al Presidente della Repubblica eh Mattarella così come all'interno di Montecitorio quando svolgiamo nel duemila e diciannove il convegno internazionale ispirato al principio di precauzione eh sullo scranno dei relatori l'alleanza italiana stop 5G portò eh i malati di elettrosensibilità questo per far capire che il problema già esiste quindi non stiamo parlando di qualcosa di di fumoso dal di aleatorio stiamo parlando di un problema concreto che coinvolge sempre più persone all'interno della società civile per questo che ricordo le interrogazioni parlamentari sottoscritte dall'onorevole Cunial dall'onorevole Giannone in cui si invitava il governo a eh ad emanare eh a mettere in moto degli atti governativi ispirati al principio di precauzione e di prevenzione del danno per tutelare in primis i malati di elettrosensibilità così come eh le delegazioni territoriali di alleanze italiana stop 5G in Abruzzo, in Puglia e nel Lazio attraverso i consigli eh regionali hanno promosso delle azioni anche dei disegni di legge regionale che purtroppo sono rimasti congelati e quindi a a tutt'oggi eh in questa regione non è ancora riconosciuta la malattia nell'elenco malattie rare. Inoltre anche con la Casa del Sole abbiamo eh promosso e sposato insieme delle attività di sensibilizzazione di divulgazione molto importanti e significative. Voglio ricordare le interviste che personalmente ho condotto con i malati di elettrosensibilità e di sensibilità chimica multipla interviste fondamentali e indispensabili eh per far capire all'esterno cosa possa significare vivere una condizione altamente eh disabilitante e invalidante come la sensibilità chimica multipla o l'elettrosensibilità. E poi la manifestazione promossa lo scorso anno sul palco con noi c'era anche il dottor Laghi a rappresentare Is the International la manifestazione nazionale Stop 5G dove e io adesso voglio far vedere a chi ci sta ascoltando lo striscione che avevamo alle spalle del palco di piazza del popolo ecco elettrosensibili cittadini senza diritti e con il 5G pure senza più vita. Questo lo striscione che ci ha accompagnato eh al ah durante la manifestazione e quindi ha eh accompagnato diciamo gli appelli che gli oratori di volta in volta hanno rinnovato ai nostri ai nostri governanti. Un altro eh un'altra tappa fondamentale che l'Alleanza Italiana Stop 5G ha eh condiviso insieme alla cittadinanza e alcuni organi eh politici è stata la ultima giornata internazionale sulle disabilità. Una giornata promossa eh dall'ONU. Noi eh abbiamo eh diciamo ehm redatto un dossier di denuncia inviato proprio all'ONU, all'OMS, al governo italiano e anche al Parlamento europeo eh un dossier dove abbiamo raccolto le testimonianze vive dei malati di eh di elettrosensibilità. Il dossier si intitola io esisto eh mai più senza diritti e insieme agli elettrosensibili eh gli affetti di sensibilità chimica multipla ci sono anche le testimonianze di chi soffre di encefalo melite mialgica o di fibromialgia che voglio ricordare essere malattie altamente invalidanti comunque riconducibili all'esposizione elettromagnetica. E eh in quella giornata noi eh facemmo eh un vero e proprio appello agli organi decisori affinché in assenza di protezione venissero comunque garantiti i diritti e la tutela soprattutto dalle invisibili barriere irraggiate nell'area perché il problema è proprio questo nel senso che noi quando parliamo di elettrosmog e di inquinamento elettromagnetico in realtà dovremmo cominciare a capire che ci troviamo di fronte a una barriera invisibile di carattere ambientale. Eh proprio per questo nasce eh la diffida legale che Alleanza Italiana Stop 5G insieme a Disde Italia eh oggi la presentiamo eh sicuramente poi gli avvocati meglio di me daranno eh menzione di eh della fattezza e soprattutto dei contenuti di questa diffida perché non è più possibile continuare ad ignorare il problema. Ci sono in Italia già sentenze dei tribunali che riconoscono la problematica e quindi hanno magari eh ordinato a un istituto scolastico di spegnere il wifi per tutelare una eh studentessa eh affetta da elettrosensibilità così come questa è una notizia che do in esclusiva eh di recente il tribunale eh in in Sicilia ha riconosciuto il cento per cento di invalidità a una malata affetta di elettrosensibilità e sensibilità chimica multipla a cui è stata riconosciuta essendo lavoratrice anche eh i benefici della legge eh cento quattro quindi per quanto riguarda i eh portatori di handicap e quindi i disabili. Il problema è che non esistono zone bianche, non esiste la possibilità di poter condurre una vita sociale, relazionale e lavorativa eh nelle stesse condizioni di chi non ha eh questa patologia e soprattutto il problema di fondo è il fatto che l'elettrosensibilità nasce da un inquinamento che viene eh diffuso eh da parte ovviamente di quella che noi riteniamo essere il migliore dei mondi possibile e quindi attraverso le strumentazioni tecnologiche purtroppo abbiamo anche questo tipo di di effetti collaterali. Io concludo il mio intervento e lascio spazio agli altri relatori eh replicando le parole espresse dal capo dello Stato Sergio Mattarella proprio nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità proclamata dall'ONU dal giorno in cui noi come Alleanza Italiana Stop 5G andammo sotto Montecitori a manifestare con il dossier e con bandiere e striscioni ebbene il capo dello Stato pronunciò esattamente queste parole ovvero sia che il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusioni, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica del Paese. Ecco io mi auguro che da queste frasi di Mattarella, la diffida legale che Alleanza Italiana Stop 5G e ISDE Italia promuovono e quindi nella giornata internazionale dell'elettrosensibilità noi annunciamo questo atto molto importante. Ecco mi auguro che da qui si possa finalmente cambiare e dare anche a tutti quei cittadini invisibili che magari ci stanno guardando dare il loro giusto riconoscimento perché non debbano più esistere delle disparità soprattutto per quanto riguarda le barriere invisibili. Grazie. Grazie dottor Martucci per questo intervento molto sentito. L'Alleanza Italiana Stop 5G in questi ultimi anni veramente ha presentato e promosso notevoli iniziative. Lei ha detto che non è più possibile ignorare questo problema e quindi adesso mi rivolgo al dottor Ferdinando Laghi dicendo che visto che non è più possibile ignorare questo problema possiamo fare una paroramica per i telespettatori e parlare dei rischi della salute legati proprio ai campi elettromagnetici e il collegamento anche con la sindrome da elettrosensibilità. Grazie dottor Ferdinando Laghi. Grazie, grazie a lei, grazie per l'invito. Io ho preparato un intervento ovviamente di ambito medico che si varrà nella prima parte della IUS di alcune diapositive. Permettetemi però di dire prima che sono particolarmente lieto di partecipare a questa tavola rotonda anche per la presenza ormai di amici non recentissimi davvero con cui Maurizio Martucci, Veronica Dini e Luca Saltalamacchia, gli ultimi due avvocati di vaglia con cui stiamo affrontando anche problemi legali in altri ambiti proprio perché mi fa piacere essere con loro in questa che io considero una battaglia di civiltà per i diritti, per il diritto alla salute di quanti non solo soffrono del problema dell'elettrosensibilità ma hanno anche l'impatto depressivo di vedersi spesso negato la dignità di malati. Allora io comincio con la prima delle diapositive che spero vediate e passo subito alla prima diapositiva appunto i determinanti di salute. La nostra salute dipende soltanto per il 10% dai servizi sanitari, per il 90% è collegata a quei fattori che vedete in tabella fra cui quelli ambientali e quindi non soltanto le matrici ambientali che sono estremamente importanti, aria, acqua e suolo, ma anche tutti quegli agenti fisici e chimici e i campi elettromagnetici sono agenti fisici esattamente come le sostanze chimiche sono appunto agenti chimici che quindi hanno un peso importantissimo sulla nostra salute. Già una prima puntualizzazione, i famosi limiti di leggi. Anzitutto noi non siamo efficacemente protetti, lo voglio dire con chiarezza, dai limiti di legge in quanto questi limiti non sono calcolati su individui adulti e quindi bambini, organismi in accrescimento, anziani fragili, malati cronici hanno una diversa suscettibilità. Ma un aforisma assolutamente veritiero è che esiste il malato, come vedremo, e non la malattia. Ma altri aspetti che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è il fatto che i limiti di legge non hanno un fondamento unicamente scientifico, ma sono in realtà una negoziazione fra varie istanze, fra varie necessità. Prova ne è che per esempio non esiste in realtà un effetto soglia al di sotto del quale una sostanza tossica diventa innocua, diventa solo meno tossica. Ma anche la componente scientifica è una componente che cambia col passare del tempo, per cui se le acquisizioni scientifiche di qualche mese fa o di qualche anno fa ci dicevano che noi potevamo esporci alcune sostanze tranquillamente, adesso magari scopriamo che quei livelli erano cento o cinquecento volte più alti di quanto non avrebbero dovuto. Ma c'è un ulteriore aspetto estremamente importante che vorrei sottoporvi, il famoso effetto cocktail. Il problema dei limiti di legge non può dar conto della vita reale, cioè noi siamo sottoposti ogni istante a un bombardamento da agenti inquinanti più diversi e naturalmente i limiti di legge non possono prevedere queste infinite composizioni. Per cui la risposta a questo qual è? Non può che essere la necessità di ridurre il numero delle fonti inquinanti eliminando quelle inutili, e vi prego di credere che sono tante, ma comunque ridurre in ogni caso al massimo i livelli di quelle che non è possibile eliminare. Ma perché tutto questo? Noi viviamo una realtà, per la verità, in cui esistono mondi che non si parlano. Cioè la comunità scientifica continua a livello internazionale, ma anche a livello nazionale, a produrre lavori scientifici che danno delle informazioni fondamentali per il mantenimento della salute dei cittadini che sembrano non influenzare affatto o per nulla i decisori politici, che inoltre sembrano anche troppo spesso indifferenti alle richieste ai diritti della società civile, loro che in realtà dovrebbero essere semplicemente i portavoce degli interessi anche e soprattutto di salute appunto di questa società civile. E in questo scenario l'attività di ISDE della mia associazione Medici per l'Ambiente è quella di svolgere un ruolo scientifico e di advocacy tendente a funzionare un po' da cerniera fra questi mondi per cercare di metterli in comunicazione, così da orientare le scelte dei decisori politici verso iniziative che tutelino ambiente e salute che sono in realtà la medesima cosa. Entrando nel medio della questione parliamo appunto dell'elettrosmog, con la domanda classica, centrale, i campi elettromagnetici sono pericolosi per la salute? Beh, certamente lo sono. Lo stabilisce la IARC di Lione, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, agenzia dell'OMS, Regressione Mondiale della Sanità, che già dal 2002 ha collocato i campi elettromagnetici a bassa frequenza fra i potenziali cancerogeni per l'uomo e dopo nove anni nello stesso gruppo 2B ha messo anche quelli per la radiofrequenza, cioè potenzialmente cancerogeni per l'uomo. Viene naturalmente naturale chiedersi perché siano passati nove anni prima di questa categorizzazione di classificazione per tutto sommato per agenti fisici che sono assai simili se non addirittura uguali, comunque appartenenti alla stessa categoria. La risposta, con grande franchezza, va ricercata nel problema del conflitto di interessi, che certamente non scopro io, ma è un elemento centrale dibattuto dalla comunità scientifica internazionale. Troppo frequentemente ci sono degli ambiti collegati a interessi economico-finanziari estremamente rilevanti che orientano le decisioni del decisore politico anche attraverso un'azione lobbistica di produzione di materiale pseudoscientifico orientato verso il supporto a tesi che di scientifico hanno veramente poco. Infatti ricordiamo che non è certamente il problema, questo è il primo caso, ricordo la cancerogenità del fumo di sigaretto oppure quello dell'amianto, che hanno aspettato tanti anni, addirittura decenni, per avere la classificazione corretta che gli competeva, cioè cancerogeni certi per l'uomo, e oltre che tanti anni hanno aspettato decine, centinaia di migliaia o milioni di morti proprio per questa antagonizzazione di una letteratura scientifica che aveva committente l'industria interessata. Per i campi elettromagnetici ci sono degli studi, chiamiamoli così, con grande larghezza di vedute, che hanno un rischio relativo inferiore a 1, che significa che secondo questi studi esporsi a campi elettromagnetici sarebbe addirittura favorevole per la nostra salute e non commento ulteriormente. Perché i bambini e gli adolescenti sono certamente più sensibili alle radiazioni elettromagnetiche? Lo sono per motivi anatomici, loro hanno ossa, pelle, tessuti della testa più sottili e quindi il cervello può essere più facilmente aggredito e nella loro condizione di crescita ci sono tantissime cellule che si riproducono più velocemente e quindi è maggiore il rischio di induzione e trasmissione di danni genetici, hanno un sistema immunitario che non è completamente sviluppato e quindi su cui i campi elettromagnetici possono negativamente agire e poi essendo giovani e giovanissimi hanno un orizzonte temporale di vita assai ampio e quindi un tempo di esposizione più molto più lungo di quello degli adulti. Ora non ho né tempo né modo ovviamente di illustrarvi le centinaia, le migliaia di studi scientifici che supportano la pericolosità dei campi elettromagnetici. vado alle acquisizioni che sono tranne diciamo una stretta fascia di medici o comunque di attori del panorama scientifico internazionale sono ampiamente condivisi. Cioè le evidenze sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici vanno accumulandosi non soltanto per patologie tumorali che sono quelle che hanno un maggiore impatto emotivo ma anche sul sistema riproduttivo, neurologico, metabolico in genere e questi effetti biologici che sono a carico delle singole cellule si hanno anche per esposizioni molto inferiori ai limiti vigenti per cui è un anacronismo assoluto per gli organismi nazionali e internazionali riferirsi ai livelli proposti dall'ICNIRF che sarebbe un'agenzia privata che ancora categorizza i livelli di possibile esposizione unicamente per gli effetti termici acuti cioè per il riscaldamento che i campi elettromagnetici pure producono. Questo è davvero ormai una concezione del tutto obsoleta quando è ampiamente dimostrato che i campi elettromagnetici interferiscono con le funzioni cellulari e quindi determinando tutti quei problemi di cui abbiamo appena detto. Così come è del tutto evidente che l'età pediatrica è particolarmente vulnerabile e che quindi non tener conto di questa massa di acquisizioni scientifiche è eticamente inaccettabile acquisizioni scientifiche che quindi chiamano prepotentemente il principio di precauzione che è uno degli elementi costitutivi dal punto di vista giuridico come diranno certamente Veronica Dini e Luca Saltalamacchia dell'Unione Europea ma d'altra parte se l'Organizzazione Mondiale della Sanità invoca l'idea di salute in tutte le scelte politiche bisogna poi anche non solo diciamo osservare queste indicazioni ma che a livello nazionale diciamo gli organismi preposti alla tutela della salute quindi il Ministro della Salute l'ISPRA, l'ARPA i presidi di prevenzione e quant'altro vengano coinvolti appunto nel processo decisionale di che fare o cosa non fare a questa situazione si è aggiunto adesso il problema del 5G che porterà e sta già portando a una proliferazione incredibile di device periferici ma anche di sorgenti di emissione di campi elettromagnetici non soltanto sulla Terra ma addirittura provenienti dallo spazio e questo in risposta io mi permetto di dire non soltanto forse non a delle reali necessità tecniche di sviluppo ma probabilmente a queste irrefrenabili pressioni lobbistiche collegate al giro vorticoso di miliardi di euro collegati con lo sviluppo del 5G l'ha ricordato prima Maurizio in Italia per la sola asta per il 5G per le bande di emissione sono stati incassati oltre 6 miliardi e mezzo di euro cioè praticamente una finanziaria d'altra parte l'Europa da parte sua supporta assolutamente questo purtroppo questo sviluppo incondizionato e rapido del 5G ma stranamente verrebbe di dire verrebbe da dire che se da una parte cioè davvero la mano destra non sa quello che fa la sinistra se da una parte la Commissione Europea raccomanda e dà delle date incalzanti per lo sviluppo del 5G quindi dei campi elettromagnetici dall'altra gli studi commissionati diciamo proprio dal Parlamento Europeo ci dicono che la Commissione Europea non ha ancora condotto studi sui potenziali rischi sulla salute della tecnologia 5G davvero uno simoro e mi piace dire che fra i riferimenti bibliografici principali c'è anche questo lavoro diciamo del nostro Agostino Di Ciaula il presidente del nostro Comitato Scientifico Internazionale che invoca appunto il principio di precauzione ribadendo i pericoli per la salute a tutto tondo quindi tumori ma anche disturbi dei vari organi apparati e attraverso dei meccanismi biologici ormai ben chiari lo stress ossidativo l'infiammazione cioè infiammazione sistemica e così via di cui appunto i decisori politici francamente non sembrano tenere conto come si diceva e d'altra parte lo stesso commissario per la salute e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha comunicato già ormai da parecchi mesi la revisione della valutazione su potenziali rischi per la salute associati ai campi elettromagnetici che non tengano necessariamente conto di quella obsoleta e ormai datata e inaccettabile classificazione dell'ICNIRP ora detto detto questo è del tutto evidente che la se sono ecco è del tutto evidente che il problema della ipersensibilità diciamo elettrica di cui noi stiamo parlando quest'oggi è naturalmente semplicemente un aspetto dei rischi e dei danni dei campi elettromagnetici come abbiamo detto esiste il malato e non la malattia non esiste cioè esiste ma voglio dire col termine diabete noi non definiamo nulla ci sono pazienti diabetici leggerissimi da internista posso vendirlo e pazienti diabetici estremamente gravi ipertesi gravissime ipertesi che per cui basta una compressina e vanno avanti per decenni quindi e così via per cui diciamo i pazienti affetti da elettrosensibilità sono persone che stanno diciamo nella parte destra della curva gaussiana cioè che per motivi di esposizione cronica o esposizione acuta a elevati magari livelli ma quelli precedenti anche a esposizione a livelli sub massimali di quelli previsti dalla legge hanno sviluppato quelle che sono delle vere e proprie patologie caratterizzate da disturbi funzionali ed organici cioè disturbi come difficoltà della concentrazione astenia continua difficoltà diciamo a un sonno tranquillo ma anche alterazioni del ritmo cardiaco alterazioni cutanee disturbi anche del ciclo mestruale e così via quindi si tratta di un paziente a tutto tondo e fra l'altro ancora una volta il tempo sta definendo sempre più e sempre meglio a livello nazionale e internazionale ma anche a livello legislativo come diceva Maurizio anche se ancora non siamo ad un livello neanche sufficiente sta definendo sempre più e sempre meglio il quadro non solo sintomatico ma anche il nostro grafico di classificazione di questi pazienti ed ecco che praticamente si vede che nell'andare del tempo i pazienti affetti da elettrosensibilità possono acquisire anche diciamo la malattia caratterizzata da sensibilità chimica multipla e quindi che si tratta entrambe rientrando nel quadro delle malattie ambientali e per esempio della fibromialgia per cui non è più rarissimo individuare pazienti che partono con una patologia ne aggiungono un'altra e poi arrivano magari anche alla terza quindi sono pazienti che veramente si sentono hanno innanzitutto una condizione particolarmente grave particolarmente delicata perché è una questione anche di vivibilità quotidiana ditemi voi se con l'avanzare dei campi elettromagnetici è davvero possibile abitare in comunità senza subirne il rimbalzo per cui si tratta alla fine il rischio per i pazienti più gravi è quello di essere socialmente e fisicamente isolati e in più oltre oltre al danno davvero fisico la beffa di non vedersi riconosciuto una patologia che gli rende la quotidianità di vita praticamente quasi intollerabile per cui benvengono tutte le iniziative le pressioni perché il diritto alla salute in questo caso per gli elettrosensibili venga finalmente riconosciuto e inserito in un quadro normativo come è giusto che sia grazie grazie dottora cerdinando laghi è stato molto esastivo molto chiaro la ringrazio veramente molto per questo intervento aggiungerei soltanto che questi malati di elettrosensibilità hanno anche un grave problema che è quello che gli viene preclusa l'assistenza nelle strutture sanitarie proprio perché è l'ambiente che non glielo permette giusto l'audio esatto questo è un altro aspetto non secondario ci dovrebbero essere degli ambulatori adeguati perché ormai cioè questi sono pazienti che hanno praticamente perso il diritto di entrare in ospedale perché fra elettromedicali campi elettromagnetici e cose di questo genere cioè vanno davvero se posso usare un aforisma per trovare clemenza e trovano giustizia cioè voglio dire entrano che stanno male escono che stanno peggio quindi anche questo è un problema la location la possibilità di cura deve essere subordinata al tipo di malattia e in questo caso bisogna trovare degli spazi fisici dove questi pazienti possono essere assistiti senza che la situazione logistica peggiori la loro situazione clinica certo grazie grazie ed è qui e quindi è importante il riconoscimento della patologia proprio per creare comunque delle zone privilegiate per questi pazienti dunque avvocato veroni cadeni in attesa che ci raggiunga l'avvocato Luca Sattalamacchia dunque il dottor Laghi ha detto che ci sono molti studi scientifici che attestano la pericolosità delle onde elettromagnetiche allora io mi chiedo qual è la realtà giuridica italiana e internazionale perché ancora non è stata riconosciuta perché non è stata riconosciuta buongiorno a tutti grazie naturalmente non solo per l'invito ma per il coinvolgimento in quest'altra battaglia che credo davvero sia di grandissimo interesse come al solito non solo giuridico ma come diceva Ferdinando Laghi è culturale prima di tutto perché lo sono sempre poi questo tipo di battaglia perché non è avvenuto questo riconoscimento per forse una ragione che anche qui esprimo e racconto dal mio punto di vista per una ragione molto simile a quella che appunto Ferdinando Laghi già diceva prima cioè per uno per uno scollamento molto profondo tra scienza da un lato esperienza anche esperienza di singole tantissime persone appunto che vivono queste esperienze non per sentito dire o per averlo letto su qualche testo ma per viverlo appunto nella quotidianità e letteralmente sulla propria pelle quindi per uno scollamento tra scienza esperienza e diritto cosa che non è inusuale assolutamente purtroppo soprattutto in materia ambientale questo è una situazione che si registra anche in altri casi ma è una situazione a cui probabilmente è giunto il momento di provare insomma a dare una soluzione a trovare una soluzione è un tema questo è un caso questo che interpella in modo diretto esplicito importantissimo il rapporto fra diritto all'ambiente tutela dell'ambiente diritto e tutela della salute e aggiungo diritto e tutela dell'informazione accesso alle informazioni perché uno delle diciamo delle ragioni delle delle cause che hanno probabilmente rallentato anche il riconoscimento dell'elettrosensibilità come malattie e quindi delle tutele poi successive è anche il fatto che di questo tema si parla poco è un come dire è un mancato di conoscimento anche qui culturale di informazione che riguarda purtroppo molti temi ambientali sicuramente in generale il tema dell'inquinamento elettromagnetico è un tema che è sempre stato approcciato anche appunto dai giuristi dai tribunali come un qualche cosa di cui si sa poco dal punto di vista scientifico su cui ci sono state esperienze ma insomma sulle quali i tribunali davvero a volte fanno fatica a riconoscere le tutele ovviamente la realtà è che studi esperienze dati ci sono sono molto chiari ma avrebbero bisogno di essere maggiormente diffusi e in alcuni casi hanno bisogno di essere anche decodificati perché naturalmente non tutti i cittadini hanno poi la capacità la possibilità di decodificare queste informazioni di comprenderle e di utilizzarle anche a propria tutela da questo diciamo in questo contesto si muove nasce la diffida che appunto le due associazioni hanno voluto promuovere che con il collega salta la macchia che si è collegato nel frattempo stiamo appunto portando avanti che notificheremo nei prossimi giorni e sulla quale io vi spendo solo le due parole allora innanzitutto che cos'è l'atto che stiamo per inviare abbiamo detto è una diffida cioè sostanzialmente è per il momento poi il collega vi racconterà gli sviluppi successivi è una lettera indirizzata al Ministero della Salute Alinea e tutta una serie di istituzioni organi enti che sono competenti in materia nella quale si dà conto ovviamente di tutta la retratura medico-scientifica poi entrerò nel dettaglio anche di ulteriori indicazioni anche normative e con la quale si chiede allo Stato attraverso appunto i suoi organi ministeri eccetera di riconoscere l'elettrosensibilità innanzitutto come malattia poi anche qui come malattia ambientale tra l'altro quindi anche con questo messo questo naturalmente al fine di consentire non è un riconoscimento astratto ovviamente la finalità è quella di fare in modo poi che le persone che sono affette da queste patologie abbiano diritto a pure adeguate luoghi adeguati con tutto quello che ovviamente ne consegue come già in realtà non è soltanto una lettera è una richiesta come dire così nel senso che si pone naturalmente anche in maniera propositiva in maniera diciamo costruttiva ma si chiama di fida perché è una lettera nella quale si avvisa che come dire passato un determinato periodo di tempo in realtà se non ci dovesse essere una risposta le associazioni promotrici e qualunque in realtà poi cittadino potrà dire il tribunale in particolare la giustizia amministrativa per aver riconosciuto il proprio diritto quindi noi auspichiamo ovviamente che data l'importanza del problema e dato il fatto che oggi questo problema è particolarmente importante oggi che lo diceva anche Ferdinando Laghi prima si parla di uno sviluppo estremamente rilevante anche di impianti e tecnologie 5G di cui si sa ancora meno in realtà dal punto di vista degli effetti sulla salute cioè da oggi è particolarmente importante allora noi spieghiamo naturalmente che ci sia come dire anche uno scatto d'orgoglio se posso dire da parte delle istituzioni e in qualche modo prendano cura si prendano cura di questo problema e si attivino diversamente sottoporremo la questione ai tribunali e sarà una delle altre insomma iniziative in cui si prova a trasformare il diritto dal basso cosa che in realtà molto spesso ultimamente soprattutto su diritti fondamentali come quelle a salute dell'ambiente in realtà sta avvenendo c'è un'altra diciamo differenza e peculiarità di quest'azione sono state richiamate prima anche da Maurizio Martucci alcune e tante in realtà iniziative giudiziarie singole che sono state portate avanti negli anni che sono di grandissima importanza questa vuole in qualche modo raccoglierle tutte e portarle prendersene cura diciamo in maniera collettiva è chiaro che ciascuno ciascun individuo che in qualche modo sia affetto da queste patologie può rivolgersi a un tribunale per cercare di far riconoscere il proprio diritto individuale qui però stiamo parlando non di poche posizioni isolate stiamo parlando di un problema che è collettivo che è sociale rilevante allora riteniamo che al di là delle singole iniziative individuali a questo punto l'azione debba essere presa in carico in modo collettivo dallo Stato che quindi ci sia un riconoscimento effettivo di questa patologia in modo tale che tutti poi i singoli possano agire o comunque chiedere le delle protezioni che poi ne derivano quindi è il modo nel tentativo di affrontare la questione a monte senza che ciascuno ogni volta debba dire tutti i tribunali d'Italia magari non solo d'Italia per riconoscere questo diritto quindi molto brevemente in realtà la direttiva la diffide scusate fa riferimento alla letteratura i dati medico-scientifici che vi sono già stati in qualche modo richiamati ma fa riferimento anche a un patrimonio giuridico e normativo che pure frazionato pure non abbastanza solido ma in realtà esiste perché esistono dei riconoscimenti appunto anche a livello normativo del fatto che l'elettrosensibilità e patologie connesse siano da considerarsi malattie o comunque disabilità a partire dalla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità che è stata pure ratificata dall'Italia nel 2009 ma rispetto alla quale poi lo Stato non ha dato adempimento come dire concreto e specifico cerchiamo anche la classificazione internazionale delle malattie del 2019 che pure fa riferimento a questo tipo di patologie ma senza appunto che ci siano poi risvolti risvolti giuridici ci sono riconoscimenti importanti anche in singoli stati qualcuno si è mosso autonomamente penso alla Svezia penso al Canada in cui appunto anche a livello normativo questo riconoscimento è avvenuto in Italia come al solito le cose sono frantumate frazionate con qualche piccolo tentativo ci sono a livello regionale dei tentativi o dei riconoscimenti comunque dell'elettrosensibilità come malattia rara penso alla Basilicata in altri casi ci sono stati diciamo dei tentativi di arrivare a questo risultato ma ancora non ci siamo ci sono invece dei protocolli che sono stati redatti insomma per cercare comunque di riconoscere un minimo di livello di cura si tratta però e quindi voglio dire tra l'altro sono provvedimenti amministrativi normativi appunto in alcuni casi adottati da enti regioni addirittura italiane che naturalmente non sono stati impugnate dalle statue o disconosciute quindi evidentemente si fondano esattamente anche dal punto di vista legale sulle ragioni di cui stavamo parlando quindi difficile che lo Stato possa dire il problema non esiste o anche solo insomma in Italia ci sono dei dati dei provvedimenti di assoluta rilevanza sono però appunto frazionati singoli e quindi se non ci si trova nelle regioni nelle specifiche condizioni indicate non si ha diritto a queste a queste tutele naturalmente poi c'è tutto un discorso diciamo che fa riferimento all'articolo 32 della Costituzione che naturalmente come dire di per sé un po' da ombrello anche non normativo nel nostro paese insomma dovrebbe assolutamente imporre una valutazione seria del problema e naturalmente le associazioni da un lato noi giuristi dall'altro siamo ovviamente poi a disposizione saremo lieti anche di avviare un confronto su un tema che è sicuramente estremamente complesso però ecco a partire da dati che a questo punto sono davvero difficili da confruttare che cosa quindi in particolare si chiede in questa diffida si chiede appunto come diciamo domanda fondamentale riconoscimento dell'elettosensibilità come malattia emergente ambientale e insisto su questo aspetto perché insomma il tema del diritto all'ambiente salubre eccetera è ovviamente la base culturale giuridica di questo di questo tema ma naturalmente quindi ovviamente come dicevo a questo poi si associa la richiesta di un riconoscimento di assistenza a livello di assistenza adeguato sotto tutti i profili anche concreti pratici che appunto si diceva aggiungo che però come dire non è soltanto questo nel senso che noi abbiamo in realtà chiesto in realtà anche eventualmente una valutazione come si suol dire in subordine anche di riconoscimento di disabilità perché ci sono alcuni casi di riconoscimento di queste patologie come disabilità si può discutere ovviamente puntiamo a riconoscimento maggiore ma si può discutere ci sono ventaglie di possibilità anche diverso ma in chiusura ci tengo anche a dire questo quello che abbiamo ritenuto anche importante richiedere è anche da una parte un livello un impegno importante sul monitoraggio sulla raccolta dei dati perché appunto se di riconoscimento parliamo dobbiamo partire da un riconoscimento condiviso dei dati e quindi delle storie anche che sono dietro queste richieste queste firme questi numeri e questo non si può fare non si può condividere se non c'è un monitoraggio ampio diffuso anche di livello istituzionale perché ci sono appunto i dati ma cerchiamo di renderli comprensibili e noti a tutti quindi un diritto anche di informazione nei confronti della collettività e di sensibilizzazione perché appunto è una patologia anche come dire che si può presentare in forme in modalità diverse che bisogna che le singole persone magari che sono affette imparino a riconoscere perché magari capita anche che non si pongano in qualche modo il problema e quindi bisogna invece renderle dotte anche di questo e naturalmente quindi quello che poi si chiede evidentemente è anche un'azione di prevenzione perché al di là del riconoscere la malattia e quindi del riconoscere tutti i diritti conseguenti è evidente che poi l'azione ha anche soprattutto prima ancora una finalità preventiva cioè cerchiamo di riconoscere il problema occuparcene e naturalmente quindi agire in tutte le sedi competenti anche quelle e soprattutto quelle che riguardano poi a monte l'approvazione dei progetti degli impianti che producono onde elettromagnetiche ecco cerchiamo di intervenire in quella fase per evitare evidentemente che queste forme di inquinamento e di emissioni creino poi le malattie laddove le dovessero creare ci porremo ovviamente il problema e prenderemo cura del problema quindi questo sia per quello che riguarda i cittadini sia per quello che riguarda esposizione eventualmente sul lavoro e quindi ci rivolgiamo anche a Dine naturalmente per quanto poi di competenza quindi questo in estrema sintesi un po' la storia del lavoro che abbiamo fatto poi lascio a Luca di raccontare il proseguimento vi ringrazio poi sono a disposizione per domande ovviamente grazie avvocato Veronica Dino Dini e posto anche l'accento sul fatto dell'informazione cioè che spesso le persone non sono informate che esiste questa patologia ma quanto più magari non sono informati o sono informati poco i medici soprattutto i medici di base che sono il primo step la prima persona alla quale il paziente che presenta dei sintomi si appaccia proprio dal proprio medico di base quindi è importante anche una valutazione valida e precoce anche della patologia giusto grazie tante se l'avvocato Luca Salta la macchia è pronto io invece gli chiederei qual è l'iter legislativo della della diffida quali scenari si aprono su questo su questo fronte non so se c'è sì mi sentite innanzitutto chiedo scusa per il ritardo ma Maurizio e Veronica sanno che oggi è una giornata un po' complessa e quindi veramente vi chiedo scusa ci tenevo tantissimo però a essere presente perché ci tengo particolarmente a questa battaglia che è una battaglia di diritti fondamentali io sono un avvocato civilista abituato a battagliare appunto davanti ai giudici civili diciamo prevalentemente ma comunque non solo e il focus delle delle contenziosi spesso appunto è quello dei diritti fondamentali ed è questa anche la prospettiva che in qualche modo abbiamo adottato con l'avvocato Veronica nel redigere la diffida che cosa succede dopo aver inviato la diffida e noi innanzitutto devo fare qualche premessa per cercare di spiegare a chi non è addetto ai lavori che l'ordinamento giuridico italiano è molto complesso e in realtà diciamo fornisce anche diverse possibilità noi abbiamo provato a ipotizzare la strada maestra quindi un tracciato principale ma ovviamente potrebbero sorgere diversi cambiamenti di programma potrebbero venire diciamo alla luce diverse idee per poter come dire ramificare questo questo contenzioso ovviamente stiamo parlando di un problema generale o nel senso che colpisce una collettività di individui c'è un numero ampio di individui non è contenzioso nell'interesse di una specifica persona o di uno specifico centro di interessi ma appunto ha una rilevanza collettiva e quindi la diffida è pensata proprio le richieste che abbiamo formulato sono state brillantemente riassunte dall'avvocato Dini l'abbiamo pensato appunto per riuscire a ottenere una utilità di natura collettiva se il ministero il ministero della salute in particolare non dovesse rispondere o se dovesse rispondere in maniera non soddisfacente perché ritiene di non poter accogliere quelle che sono le esigenze indicate in diffida la prima cosa la strada principale a cui parlavo che potremmo ipotizzare di fare è un ricorso al TAR un ricorso al TAR che si deve proporre entro 60 giorni o dalla risposta negativa o decorsi 30 giorni dall'invio della diffida nell'ipotesi in cui il ministero non dovesse rispondere la diffida è inviata anche ad Inail altro soggetto diciamo comunque competente ma è chiaro che il nostro focus principale diciamo è il ministero della salute ora mentre noi abbiamo la libertà di decidere quando farla partire la possiamo far partire domani fra 5 giorni fra 10 giorni fra un mese perché non c'è un come dire un vincolo temporale a cui siamo assoggettati nel momento in cui la diffida parte e dobbiamo essere ben sicuri che entro una scansione precisa dovremmo essere in grado appunto di predisporre l'atto giudiziario dinanzi al TAR Lazio la diffida è abbastanza articolata ma ovviamente è un documento che per sua natura non ha la complessità e diciamo la profondità che deve avere un atto giudiziario e quindi è evidente che nel momento in cui noi la faremo partire prossimamente poi dovremo subito metterci al lavoro per iniziare a mettere giù quello che è il possibile ricorso da presentare all'autorità giudiziaria competente alla quale poi verranno chieste fondamentalmente di ordinare al ministero quello che il ministero non ha voluto spontaneamente fare e questa è la prima strada quindi con una tempistica anche abbastanza veloce nel momento in cui parte la diffida perché ripeto dobbiamo ipotizzare 60 giorni sperando diciamo che il ministero non risponda che è lo scenario migliore per noi rispetto al fatto che risponde subito no ma in ogni caso lo scenario migliore sarebbe che accogliesse diciamo le nostre istanze ma sinceramente parlando è abbastanza diciamo difficile anche visto il periodo diciamo di emergenza covid che ancora comunque aleggia e tiene impegnato la maggior parte delle energie del ministero quindi diciamo la tempistica è anche abbastanza veloce per cui noi subito dopo l'estate dovremmo già essere in grado appunto di depositare il ricorso al TAR e questa è una strada ed è una strada che porta con sé delle domande appunto di rilevanza collettiva questo non toglie che sarebbe possibile anche ipotizzare un nuovo e diverso tipo di contenzioso non ho potuto ascoltare l'intervento di Maurizio ma dalle parole di Veronica ho capito che Maurizio ha citato diciamo alcuni precedenti che si sono verificati ovviamente sono precedenti che sono anche stati incardinati qualche tempo fa adesso la situazione globale sulla conoscenza anche e la rilevanza di questa nuova diciamo malattia è avanzata quindi chiaramente probabilmente esiste più materiale anche scientifico a disposizione per cui si potrebbe ipotizzare di riattivare dei contenziosi non davanti al TAR ma davanti al giudice civile che però non hanno una natura collettiva hanno una diciamo rilevanza collettiva ma hanno diciamo soprattutto per quanto riguarda proprio l'aspetto procedurale hanno un'importanza solo per chi agisce questo tipo di contenzioso per esempio può essere un'azione di risarcimento danni di una singola persona che può essere intentata nei confronti di una compagnia che ha installato un'antenna che diciamo pregiudica il godimento dei diritti fondamentali potrebbe essere una domanda per spegnere il wifi per far spegnere il wifi soprattutto in luoghi come le scuole potrebbe essere un contenzioso di tipo lavoristico in cui un dipendente non riesce a svolgere per esempio le sue mansioni perché magari colpito da da irraggiamento non ha la possibilità di avere diciamo la la serenità proprio anche a livello di salute per poter operare e magari questa cosa gli viene contestata e quindi si potrebbe aprire un contenzioso di tipo lavoristico queste però sono diciamo come dire delle ramificazioni che pur avendo una un'importanza comunque di rilevo generale perché toccano una materia che ripeto ha un interesse collettivo dal punto di vista procedurale chiaramente si risolveranno con una pronuncia che non è destinata a risolvere il problema generale ma è destinata sembra a risolvere la singola posizione di chi agisce in giudizio tengo a precisare che ovviamente nell'ipotesi di un contenzioso di questo di questo tipo di questo secondo tipo è chiaro che un eventuale diciamo accoglimento da parte del giudice della domanda beh questa cosa comunque costituirebbe una un precedente e inizierebbe diciamo a scricchiolare quella che è una colpevole inerzia diciamo da parte comunque della pubblica amministrazione su questo tema e sottolineo questo punto perché in realtà noi stiamo parlando appunto di elettrosensibili e l'avvocato Veronica prima Veronica Dini ha molto in maniera molto puntuale precisato che diciamo la nostra intenzione è quella di ricondurre questa diciamo patologia all'interno delle malattie ambientali voi non so se sapete ma nella nostra costituzione il diritto ad un ambiente salubre non c'è se voi leggete la nostra costituzione non si parla di diritto ad un ambiente salubre e non se ne parla nemmeno non se ne è parlato affatto per tanto tempo adesso c'è qualche norma ovviamente negli ultimi anni che è uscita sia sul testo unico che sui nuovi reati diciamo che colpiscono l'ambiente ma per tantissimi anni di ambiente non si parlava in nessuna norma di carattere nazionale eppure sin dagli anni 80 sia la giurisprudenza che la dottrina riconosce l'esistenza di questo diritto e come è possibile il ragionamento che è stato fatto è stato quello di ricavarlo dall'articolo 32 della costituzione cioè dal diritto alla salute e il ragionamento è semplice come facciamo a garantire la salute se non viene garantito il diritto ad un ambiente sano che è strumentale rispetto al diritto alla salute poi ci sono state delle sentenze anche di diciamo di organi sovranazionali che hanno chiarito che il diritto all'ambiente salubre è strumentale quasi a tutti i diritti anche il diritto alla vita anche il diritto alla vita familiare il diritto al domicilio il diritto alla proprietà una una grande gamma di diritti fondamentali in realtà possono essere minacciati se viene meno il riconoscimento del diritto ad un ambiente salubre quindi diciamo il nostro ragionamento trae diciamo origine da questa matrice di collegare ovviamente quella che è un'esigenza di riconoscere questa forma di malattia alle determinanti ambientali e si inserisce questo nostro tentativo nel socco di quello che viene definito il contenzioso strategico che cos'è il contenzioso strategico è un contenzioso che la cui importanza prescinde dalla domanda precisa fatta al giudice no? in questo caso la domanda che faremmo all'altar sarebbe diciamo ordine al ministero di riconoscere chiaramente l'effetto di questa domanda è un effetto domino perché chiaramente dovrebbero poi cambiare tutta una serie di cose no? collegate al riconoscimento dell'elettrosensibilità come diciamo malattia ufficiale diciamo si innesca una serie di diciamo necessaria di mutamenti che riguardano tanti pezzi dell'ordinamento giudizio quindi la importanza di questa di questo giudizio quindi l'importanza in generale di questa azione è proprio quella diciamo come dire di andare a guardare un interesse generale che in questo momento viene calpestato ma che però ha un costo notevole e questo è un altro punto del problema il contenzioso strategico si muove su un terreno minato io adesso ho introdotto un giudizio sul cambiamento climatico è un terreno minato perché costringe la pubblica amministrazione a dover fare dei passi e a dover muovere dei passi in un terreno dove fino a poco prima si è scelto deliberatamente di non di non muoversi ok nel caso dell'elettrosensibilità la direzione è quella comunque di tra virgolette dare fastidio ai tecnocrati a chi vuole accelerare sulla diciamo sulle innovazioni tecnologiche costi quel che costi allora diciamo questa nostra domanda dobbiamo essere chiari avrà certamente diciamo sarà trattata con un approccio negativo sarà trattata con un approccio come dire di pesantezza perché saremo visti come quelli che piantano una grana e che vorrebbero diciamo ostacolare una superstrada che diciamo ci vogliono imporre per poter portare avanti una serie di innovazioni diciamo senza colpo ferire e questo è un problema di cui noi dobbiamo tenere conto quando poi andremo a discutere il giudizio davanti al TAR o eventualmente altri singoli giudizi davanti ai giudizi ordinari è un contenzioso strategico perché noi andiamo a toccare dei punti sensibili può sembrare strano ma chiaramente riconoscere l'elettrosensibilità significa per lo Stato italiano dover mettere a budget milioni e milioni di euro e noi dobbiamo essere consapevoli che purtroppo diciamo non è questo il momento diciamo come dire favorevole per sottoporre allo Stato questa richiesta non ce ne frega niente perdonatemi la franchezza i diritti sono diritti è giunto il momento di fare questa battaglia perché effettivamente oramai diciamo c'è un bullus nel nostro ordinamento e dobbiamo fare di tutto per cercare di coprirlo grazie grazie avvocato Luca Salfanamacchia io invece credo che questo potrebbe essere il momento dovremmo aver capito che dobbiamo investire nella sanità e nella salute pubblica l'abbiamo visto con le politiche che sono state fatte in passato poi la sanità quanto è stata in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria quindi dovrebbe ci dovrebbe essere mi dica se sbaglio un cambiamento culturale da questo punto di vista perché se noi ci creiamo un ambiente salubre per poter vivere siamo bene tutti quanti e forse e anzi probabilmente ci sarà anche un ritorno economico perché lo Stato comunque spende per curare le persone se le persone non si ammalano perché l'ambiente è salubre forse risparmia no? ci vuole questo questo cambiamento culturale secondo me ci vuole e noi però da persone ragionevoli diciamo con un minimo di buonsenso ci auspichiamo che accada ma io non vedo segnali che questa cosa accada facciamo l'esempio del recovery fund cioè del piano nazionale doveva essere dedicato all'ambiente in particolare una fetta enorme poi andiamo a guardare quello che viene di fatto destinato ed è una minima parte proprio ieri credo sia uscito da parte di un'NG tedesca l'analisi dei piani nazionali dei vari stati europei l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda diciamo le risorse destinate all'ambiente e all'economia sostenibile quindi chiaramente noi avremmo dovuto imparare ma io sinceramente non vedo questi sforzi fatti sia a livello regionale sia a livello nazionale per non drenare più le risorse alla sanità privata io non le vedo questi sforzi non li vedo non vedo un ministro della transizione ecologica che anziché fermare le trivellazioni del fossile diciamo le sta promuovendo cioè anziché fermare l'uso della plastica ha chiesto la proroga all'Europa per non implementare la normativa che blocca la commercializzazione della plastica monouso cioè voglio dire io infatti lo definirei il ministro della transazione ecologica cioè sta svendendo la tutela ecologica questo ministro del resto il suo background è ben evidente quindi io sono d'accordo con lei dovrebbe essere così ma temo che non abbiamo imparato nulla dalla lezione anche del covid che comunque ha evidenziato delle criticità indubbie appunto nella gestione della delle risorse nella programmazione sanitaria cioè e io potrei parlare a lungo vengo da Napoli ho la terra di fuchi qua vicino della errata programmazione diciamo anche sanitaria potrei parlare il problema è che noi non impariamo dalle dalle lezioni quindi purtroppo dovrebbe essere come dice lei ma non è grazie grazie non so se voleva aggiungere qualcosa all'avvocato Veronica Dini e poi le faccio una domanda prego grazie devo dire che mi ha assolutamente preceduto anch'io purtroppo cerco di essere diciamo se non ottimista insomma ovviamente di guardare almeno nelle direzioni in cui è possibile guardare senza doversi nascondere o vergognare però diciamo i segnali oggettivamente non ci sono e non ci sono in generale ma nello specifico tantomeno per il tema di cui ci occupiamo però aggiungo se non è questo il momento di imparare a riconoscere e a regolamentare le malattie ambientali in generale non so quale obiettivamente possa essere un momento più favorevole siamo appunto nel mezzo di una pandemia che da un lato avete detto giusto appunto ha messo in luce quali sono le reali conseguenze di una dell'assenza devastante di un sistema sanitario pubblico e dall'altro ha messo altrettanto in evidenza quanto lo squilibrio che determiniamo nell'ambiente che sia il degrado il disastro ambientale specifico che sia la crisi climatica e danni al cambiamento climatico determinano fra le altre cose conseguenti sociali economiche ma direttamente sulla salute dei cittadini allora se non impariamo a riconoscere appunto ammonte il diritto all'ambiente salubre non solo il diritto all'ambiente come qualcosa di esterno e di estraneo non ci prendiamo cura di questo tipo di fenomeni di malattia ecco obiettivamente non andremo da nessuna parte se non ora quando mi pare davvero una insomma un elemento da considerare poi naturalmente vedremo tra l'altro insomma siamo in un momento in cui si parlano tanto di sviluppo sostenibile e insomma io di sostenibilità ecco anche qui vorrei capire bene più che di sviluppo sostenibile bisogna cominciare anche qui a ben riconoscere a ben vedere i limiti dello sviluppo e quindi come dire a tornare indietro sul 5G purtroppo e sull'inquinamento elettromagnetico in generale c'è davvero questa chiusura totale nel senso che ovviamente ci viene detto certamente è un elemento importante per le telecomunicazioni per la nostra società certamente ma che questa sia l'unica risposta che non si possa valutare nessun'altra nessun'altra voce nessun altro aspetto io lo trovo veramente nelle condizioni in cui siamo di una cecità inquietante oltretutto quindi spero che azioni di questo tipo contenziosi strategici ma insomma azioni come di associazioni come le vostre siano sempre più forti e importanti perché davvero non ci sono altre vie di uscita grazie una cosa le volevo chiedere comunque lei sempre riguardo la diffida aveva posto l'attenzione sul fatto che comunque questa diffida può essere un documento utile per tutti quindi indipendentemente dal fatto che rispondono o meno indipendentemente come andrà al TAS comunque può essere effettivamente un documento utile per ciascun individuo per associazioni e quant'altro assolutamente sì è come dire una denuncia una presa d'atto nel senso di anche qui una cosa che in realtà non diciamo nulla di nuovo nulla di sconvolgente voglio dire semplicemente abbiamo ripreso tutto quello scienziati i medici i giuristi eccetera hanno detto e sicuramente è un documento che può essere utilizzato poi e condiviso soprattutto spero da chiunque associazioni singoli l'idea è anche quella di magari approfittare di questo momento tra la diffida e il probabile possibile contenzioso anche per cercare di compattare un po' come dire il fronte e far sentire che appunto non è questa non è un'azione di pochi e mi permetto di dire non è neanche solo un'azione di coloro che queste malattie le vivono certo che è loro però credo che debba essere un'azione di tutti assolutamente senza nessuna distinzione del fatto che uno può essere o meno colpito è una questione di civiltà giuridica e non solo quindi sì assolutamente apertura come spero ci possa essere davvero anche condivisione tra chi appunto poi promuove ha promosso azioni singole eccetera le vorrà porre le vorrà porre in altre forme è soltanto con una sinergia che poi si ottengono risultati reali visto anche bilanciamento come dire degli interessi contrapposti e dei soggetti contrapposti grazie grazie avvocato io posso aggiungere una cosa perché poi ho fatto un passaggio veloce sulla necessità di impostare questo contenzioso anche e soprattutto sui diritti fondamentali e la questione è ma quali sono i diritti che diciamo i portatori di questa patologia vedono violati perché non è scontato e molti diciamo possono sicuramente guarderanno il diritto alla salute che è il primo ovviamente l'immediato ma ce ne sono tanti altri che hanno un riconoscimento e una copertura molto forte come per esempio il diritto alla vita familiare o il diritto a non essere discriminati articolo 8 e articolo 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo questi diritti soprattutto l'articolo 8 hanno generato una giurisprudenza della corte micidiale nei confronti delle inerzie degli stati che pur sapendo di dover diciamo intervenire perché c'era un problema che riguardava diritti fondamentali non lo ha fatto ebbene è stato ci sono tantissime sentenze in cui gli stati sono stati castigati proprio in applicazione di questi due di questi due articoli soprattutto l'articolo 8 perché dico questo perché non è solo una questione di salute è la prima cosa a cui si pensa ma in realtà se noi alziamo lo sguardo è una questione c'è un perimetro di diritti fondamentali molto ampio che viene messo in discussione semplicemente perché per una scelta bizzarra per una scelta di superficialità o forse per una scelta precisa diciamo così di interesse non si chiamano le cose per quello che sono con il loro nome quindi il tentativo di sollevare la questione è anche visto in prospettiva di un approdo alle corti sovranazionali che potrebbero in caso in cui non riuscissimo ottenere un risultato positivo davanti agli organi nazionali quindi il TAR e poi il Consiglio di Stato potrebbero intervenire per sollevare la criticità della condotta dello Stato italiano Certo grazie grazie ed è giusto l'accento che lei ha posto cioè che comunque questi pazienti vengono discriminati non soltanto in famiglia non soltanto socialmente ma anche e soprattutto sui posti di lavoro e non dimentichiamoci che questi malati ambientali hanno grossi problemi sui posti di lavoro grazie tante avvocato io un'ultima cosa molto veloce una considerazione volevo fare con il dottor Ferdinando Laghi volevo soltanto fare questa considerazione che praticamente in passato tutti quelli che sono stati i cambiamenti i cambiamenti climatici tecnologici culturali sono avvenuti molto lentamente invece oggi lo sviluppo tecnologico soprattutto nel campo delle comunicazioni corre molto velocemente quindi siamo bombardati da tutta una serie di notizie di informazioni che veramente io credo che questo provoca molti danni soprattutto a livello neurologico giusto? Per la verità è vero i tempi sono sempre più rapidi non soltanto per lo sviluppo tecnologico in realtà per esempio io non so quanti milioni di volte si è aumentato l'inquinamento elettromagnetico proprio in pochi anni e come in realtà noi viviamo un'epoca appunto di cambiamenti rapidi noi per esempio sappiamo per dirne una che l'80% della popolazione mondiale sarà inurbata entro il 2050 il ritmo di crescita della popolazione mondiale è esponenziale sappiamo che diciamo l'utilizzo delle risorse a questo proposito è una cosa molto interessante negli ultimi decenni l'overshoot day cioè il giorno che segna praticamente la fine dell'utilizzo delle risorse rinnovabili della terra e quindi poi il consumo delle risorse non più rinnovabili nel 2019 dico era praticamente mi sembra del 19 luglio nel 2020 proprio per la pandemia in questo voglio riprendere quello che ha detto Luca Saltalamazia il nostro pianeta ci ha dimostrato che ha che ha delle risorse incredibili di ripresa perché nel 2020 per la prima volta negli ultimi decenni circa 40 anni fa l'overshoot day era il 31 dicembre più o meno quindi noi consumavamo solo le risorse rinnovabili in un anno di pandemia noi abbiamo guadagnato più di un mese l'overshoot day del 2020 e tipo il 22 di agosto è stato rispetto al 19 luglio dell'anno precedente allora citavo Luca Saltalamacchia perché perché io sono perfettamente d'accordo sul fatto che noi stiamo sprecando gli insegnanti non solo ci siamo beccati la pandemia con tutti i rischi gravissimi connessi e i danni gravissimi di sanità e di economia ma adesso cioè l'insegnamento di una pandemia nata da una zoonosi che non è la prima casuale ma è l'ottava la nona degli ultimi decenni che si è fatta strada sempre con le stesse modalità e per gli stessi motivi noi anziché trarre insegnamento noi che cosa stiamo facendo adesso? Stiamo ripercorrendo più rapidamente per guadagnare il tempo perduto la strada che ci ha portato alla pandemia c'è qui rispetto all'insegnamento che diciamo che la pandemia ci ha dato sotto tutti gli ambiti ed ecco per questo certamente c'è ignoranza ma certamente c'è anche un sistema io devo dire davvero multinazionale lobbistico di controllo che ha alle spalle interessi economico finanziari colossali che spinge per l'interesse di pochi l'intera popolazione mondiale su una strada che davvero è senza ritorno e se è vero che queste cose stanno andando sempre più rapidamente dovremmo ricordare che non stiamo parlando della sopravvivenza del pianeta Terra che ci farà per altri 5 miliardi di anni stiamo stiamo parlando della sopravvivenza della razza umana sulla Terra e che quindi forse una riaggiustatina e una diciamo una presa in carico della incredibile l'elezione che la pandemia ci ha dato forse lo dovremmo mettere in conto grazie esatto ci dobbiamo ricordare che noi siamo ospiti su questa terra non siamo i padroni di questa terra giusto ringrazio molto siamo in chiusura l'ultima domanda alla dottor Norizio Martucci abbiamo già parlato del primo libro sul sullo stop 5G il manuale di autodifesa per elettrosensibili dove ricordiamo che sono raccolte testimonianze di pazienti sentenze i conflitti di interessi di cui abbiamo già parlato ma è stato pubblicato da poco il nuovo libro di inchiesta sul 5G la verità sull'inquedante futuro digitale allora io ho due cose al dottor Martucci chiederei proprio a lui quale futuro ci aspetta con il virus di quinta generazione e poi se ci può parlare velocemente dell'ultima iniziativa dell'alleanza italiana stop 5G del 21 giugno prossimo grazie Claudio grazie Roberta grazie davvero per la moderazione e queste preziosi domande che sono state rivolte a tutti quanti i relatori dunque il libro d'inchiesta stop 5G è uscito proprio in questi giorni condivido con voi la tina il sottotitolo la dice lunga perché il 5G noi oggi abbiamo denunciato nei campi elettromagnetici l'elettrosmog il grave pericolo sanitario ma in realtà inondare in un brodo elettromagnetico inesplorato come sarà almeno secondo i piani delle compagnie telefoniche con il wireless di quinta generazione comporterà anche problematiche di carattere ambientale ed ha anche dei risvolti significativi da un punto di vista di geopolitica e quindi parliamo dei contenziosi in atto tra le grosse potenze mondiali ma anche ripercussioni di carattere sociale e quindi quello che io definisco all'interno del libro come vero e proprio cambio antropologico nell'essenza ontologica dell'essere umano vede il 5G il digitale i device l'internet delle cose come punto di riferimento per stravolgere sostanzialmente il sistema paese quindi società del controllo e poi perché no questa è la dizione utilizzata anche in amici accademici transumanesimo non dobbiamo dimenticarci che l'internet delle cose machine to machine nasce proprio in quei laboratori che partorirono attraverso la digitalizzazione l'idea il concetto di poter superare da un punto di vista biologico quelle che sono le fattezze tipicamente da millenni dell'essere umano e quindi il 5G si inserisce in questo scenario ce lo fa proprio anche il forum economico mondiale dove si parla apertamente di una fusione tra il biologico e il digitale e poi ovviamente perché no denunciare anche quelle che sono i pericoli da un punto di vista proprio di stravolgimento epocale e anche da un punto di vista energetico quindi in questo libro io lo racconto e lo dico apertamente è il primo libro di inchiesta a 360 gradi senza peli sulla lingua e riesco ad intrecciare in questo volume anche tutti i tasselli tipici dei clamorosi conflitti di interessi che vedono anche all'interno del nostro esecutivo due punte di diamante del governo Draghi come Vittorio Colau che fino alle 24 ore precedenti all'insediamento nel ministero della transizione digitale era ancora membro del consiglio di amministrazione di Verizon che parliamo del colosso internazionale statunitense del 5G dopo essere stato per un decennio amministratore delegato di Vodafone e parliamo anche qui di un colosso europeo un gigante un mondo intorno alle telecomunicazioni con il marchio Vodafone ma non c'è soltanto Colau nel libro parlo anche della visione transumanista del ministro della transizione ecologica che a questo punto vi verrebbe quasi da dire della transizione transumanista che risponde al nome di Roberto Cingolani autore di un libro che la dice tutta il titolo Umani ed Umanodi ecco per capire il 5G cosa che non viene fatta a livello di mainstream che non viene fatta a livello di informazione su larga scala c'è bisogno di un testo come questo semplicemente perché si apre uno scenario totalmente inedito il 5G non è quello che ci raccontano gli spot pubblicitari non è quello che a suon di milioni di euro le compagnie telefoniche acquistano spazi sulle maggiori testate online radio e tv per farci credere farci proiettare all'interno di questo che viene definito quel migliore dei mondi futuribili ma in realtà se l'Europa e sentivo prima Ferdinando che faceva un accenno in tal senso se l'Europa investe oggi ben 900 milioni di euro nel 6G e il 6G si chiama internet dei corpi ci sarà un motivo essenzialmente perché si può passare attraverso la concezione di queste nuove strategie dall'internet delle cose di cui ancora gli italiani hanno difficoltà a comprendere cosa possa significare viaggiare su un'automobile senza conducente o far parlare il frigorifero e la lavatrice e con il 6G arrivare all'internet dei corpi lì dove Elon Musk sta sperimentando delle diaboliche congegnerie che addirittura prevedono l'innesto di chip dermali e chip neurosensoriali per la connessione diretta del cervello con internet ecco per capire tutto questo c'è bisogno di un libro c'è bisogno di Stop 5G perché il mainstream non lo fa ma soprattutto e questa cara Roberta la risposta alla tua seconda domanda c'è bisogno di una partecipazione attiva dei cittadini consapevoli quindi alleanza italiana Stop 5G da appuntamento il prossimo lunedì 28 di giugno alle ore 16 a Roma in Viale Mazzini ci troveremo non a caso di fronte alla sede generale della RAI perché in maniera civile democratica vogliamo manifestare tutto il nostro dissenso nei confronti del sistema di informazione pubblico sentivo prima sia Veronica che Luca che facevano riferimento proprio a un cambiamento di carattere culturale ecco bene noi andremo a puntellare proprio quello che è l'attore principale del cambiamento culturale italiano noi non riusciamo a concepire come sia possibile che la RAI trasmetta in prima serata un programma come il codice la vita è digitale dove si parla apertamente di robotica a sostituire l'essere umano si parla apertamente di chip si parla apertamente di un'irradiazione permanente multipla e ubiquitaria di radiofrequenze e la RAI non faccia inchiesta su quelli che potranno essere le ripescursioni di carattere sanitario e ambientale quindi noi oggi abbiamo ufficialmente annunciato questa diffida che insieme ad Isda Italia come alleanza italiana stop 5G portiamo avanti per il riconoscimento dell'elettrosensibilità ma il prossimo lunedì andremo sotto la sede generale della RAI per chiedere a gran voce visto che paghiamo il canone e quindi siamo dei partecipanti alla radio televisione pubblica attraverso il nostro la nostra donazione annuale che viene fatta con il cane quindi come come cittadini come utenti come consumatori ma soprattutto come esseri umani vogliamo manifestare il nostro dissenso il prossimo lunedì quindi vi lascio con questa clip che è stata appositamente scusa Maurizio perché io ho detto il 21 di giugno 21 di giugno quindi non il 28 come hai detto chiedo scusa non lo sbaglio ok hai fatto benissimo cara Roberta a ritaguirmi è il 21 di giugno il prossimo giorno quindi diamo appuntamento a tutti coloro che vogliono manifestare il proprio dissenso chiamiamolo così al presidio presso la sede della direzione generale della RAI giusto? assolutamente sì viale Giuseppe Mazzini io ne approfitto per ringraziare tutti coloro i quali hanno seguito la diretta sui canali della Casa del Sole TV Alleanza Italiana Stop 5G ringrazio nuovamente la Casa del Sole TV nella persona del direttore Margherita Furlan ringrazio anche in regia Gennaro Gargiulo e anche Jeff Hoffman della Casa del Sole TV ovviamente ringrazio la moderazione di Roberto Taborghese gli avvocati Luca Saltalamacca e l'avvocato Veronica Dini un caloroso ringraziamento all'amico dottor Ferdinando Laghi vi lascio con questa clip il prossimo 21 di giugno come Alleanza Italiana Stop 5G saremo sotto la sede la sede generale della RAI grazie a tutti grazie a tutti ed è stato un privilegio essere qui con voi oggi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.